il buddha volle che noi vedessimo chiaramente che tutte le cose della vita sono impermanenti e incerte che se fioriscono e decadono in accordo con cause e condizioni cose benefiche sono soggette al decadimento e cose non benefiche possono essere purificate è saggio preservarsi da cosa potrebbe arrecare danno a una relazione benefica o se tale relazione è già in decadimento bloccare con prontezza la causa di tale decadimento è importante sviluppare noi stessi allo scopo di avere la capacità di farlo abbiamo bisogno di aprire i nostri occhi e le nostre orecchie alla realtà della natura di accettare l'impermanenza di accettare l'incertezza e condurre il nostro amore sempre più sul sentiero della gentilezza amorevole metta in questo mondo amare amare saggiamente comporta a imparare a comprendere la natura dell'amore e a contemplare i suoi svantaggi come pure i suoi vantaggi il dam ci insegna ad abbandonare le brame che sono causa della sofferenza causa dei mali che accompagnano l'amore terreno dovremmo mirare ad essere una persona che ne soffre per amore né è per altri causa di sofferenza per amore purificare il nostro amore affinché esso assuma la qualità della gentilezza amorevole imparando dall'esperienza giungiamo alla verità delle cose nel vedere le cose il modo in cui le cose sono l'amore che è alimentato dall'ignoranza e dalla brama diminuisce o scompare del tutto l'amore basato sulla saggezza sulla comprensione e sui desideri che da queste ultime scaturiscono persiste e matura il buddha non ci ha insegnato ad usare la minaccia dell'inferno o la promessa del paradiso egli ha piuttosto annunciato di essere un conoscitore di tutti i mondi di aver visto con chiarezza il modo in cui le cose sono e di averlo esposto disse che il damma era sperimentabile ed incoraggiò la gente non a credere semplicemente in esso ma sottoporlo a verifica la questione dell'amore è allora materia di esplorazione non ci si aspetta che si adotti una particolare attitudine buddista nei riguardi dell'amore ma che si abbia un profondo interesse nell'osservarlo nel modo più saggio possibile imparando accuratamente cosa realmente è perché ogni componente del mondo è pronta ad arricare sofferenza chi è privo di saggezza e sempre pronta a condurre la felicità chi ne è provvisto da quanto osservato i problemi di quanti vivono in famiglia sono causati più dal fatto di non essere reciprocamente buoni amici che dalla mancanza di amore per essere buon amico di qualcuno che amiamo addestriamoci il più possibile ad essere virtuosi e sviluppare generosità moralità meditazione al fine di comprendere sia chi amiamo sia noi stessi sviluppando costantemente buone abilità comunicative una buona comunicazione non giunge da sé con l'amore è un'abilità che deve essere padroneggiata siamo sulla stessa barca una squadra con un problema da risolvere da risolvere insieme ascoltare quindi e parlare bene prima di riuscirci l'amore fa parte del mondo ha un lato luminoso un lato scuro e un'aria un'aria grigia il buddha dhamma ci insegna ad imparare sull'amore al fine di trovare il modo per minimizzare i lati oscuri i lati grigi massimizzando il lato luminoso siamo nati gravati dall'ignoranza e bramosie l'amore è parte della vita e comporta contaminazioni la saggezza agisce nel dhamma come diretto antidoto all'ignoranza per mezzo dell'esame della realtà della vita e del mondo mediante una mente stabile pacificata imparziale e mantenuta nel momento presente l'antidoto contro la brama è lo sviluppo sistematico di stati mentali benefici i caratteri distintivi dell'amore puro sono è incondizionato è illimitato non è causa di sofferenza è governato da saggezza ed equanimità data alla natura della gentilezza incondizionata amorevole praticare per educare il nostro amore significa rendere il nostro amore meno soggetto a condizioni a renderlo meno discriminante e meno preferenziale a ridurre la sua capacità di causarci sofferenza coltivare la saggezza e l'equanimità gentilezza amorevole è un amore puro perché libero dall'attaccamento all'idea del sé non vogliamo altro che la felicità degli esseri viventi gentilezza amorevole amore che fluisce naturalmente da una mente soddisfatta non è agitazione mentale senza rifugio non desidera nulla in cambio neanche amore o comprensione il butta disse che l'amore incondizionato nutrito da una madre per il suo figlio è in generale nel mondo l'approssimazione più vicina a questo genere di amore per chi coltiva la gentilezza amorevole mettà quell'amore non è ristretto al proprio unico figlio ma è provato per tutti gli esseri viventi la qualità di metta che è forse la più difficile da sviluppare è l'universalità l'amore personale manca di universalità perché è connesso a pregiudizi limiti e una delle ragioni per cui i monaci buddhisti praticano il cio di pato è per prevenire che l'amore personale ostruisca il fluire di metta nei loro cuori l'equanimità lo stato neutrale imparziale che sorge dalla saggezza è il luogo in cui riposare la nostra mente quando siamo impossibilitati ad aiutare chi amiamo ad ottenere la felicità impariamo a fare cosa possiamo e a lasciare andare la saggezza gioca pure un ruolo importante per concepire mezzi abili per aiutare gli altri ed essere felici di per sé le buone intenzioni sono di solito insufficienti abbiamo bisogno di essere sensibili nei riguardi di fattori quali la personalità di chi stiamo cercando di aiutare l'appropriatezza di tempi e luoghi è il modo più efficace per comunicare uno che è in grado di offrire un amore così puro è interiormente felice sa come dare amore e perdonare dare metta a qualcuno è una significativa fonte di felicità interiore e il modo di iniziare a farlo è pensare a cose buone belle toccanti si cerchi di trovare la formulazione che dia i migliori risultati calma interiore vitalità dicendo che io possa non è che lo si chieda a qualcuno è più una conferma a noi stessi a proposito dei nostri fini spirituali e oltre a rafforzare la nostra determinazione queste parole servono a farci esaminare se il modo in cui viviamo quotidianamente è compatibile con le virtù desiderate ogni volta noi facciamo diciamo pensiamo qualcosa che entra in conflitto con queste virtù il ricordo di questi buoni auspici ci obbligherà a una pausa quando sorgono gelosia vendetta noi sentiremo ehi aspetta un po' cosa sto pensando ora è esattamente l'opposto di ciò cui aspiravo questa mattina il potere dell'aspirazione aumenta la nostra consapevolezza nella vita giornaliera un altro mezzo per diffondere mantra metta un altro mezzo per diffondere metta consiste nel praticare usare mantra in connessione con il respiro per esempio una parola composta da due sillabe come gioia può essere divisa in gio per l'ispirazione e i a per l'espirazione recitare mentalmente la parola aiuta a sostenere l'attenzione sul suo significato ispirando ispirando si pensi alla gioia diffondendola su tutti gli esseri viventi si pensi a se stessi come a una luce che emana luminosità in ogni direzione infine che tutti noi si possa essere in grado di imparare e comprendere l'amore non importa e non ti preoccupare se agli inizi inciampi praticare il damma per dare un senso alla vita non è facile ma non è nemmeno impossibile ne vale ugualmente la pena questo dovrebbe fare chi pratica il bene e conosce il sentiero della pace essere abile e arretto chiaro nel parlare gentile e non vanitoso contento e facilmente appagato non oppresso da impegni di modi frugali calmo e discreto non altero o esigente incapace di fare ciò che il saggio poi disapprova che tutti gli esseri vivano felici e sicuri tutti chiunque essi siano deboli o forti grandi o potenti alti medi o bassi visibili e non visibili vicini e lontani nati o non nati che tutti gli esseri vivano felici che nessuno inganni l'altro né lo disprezzi né con odio o ira desideri desideri il suo male come una madre protegge con la sua vita suo figlio il suo unico figlio così con cuore aperto si abbia cura di ogni essere irradiando amore sull'universo intero in alto verso il cielo in basso verso gli abissi in ogni luogo senza limitazioni liberi da odio e rancore fermi o camminando seduti o distesi esenti da torpore sostenendo la pratica di metta questa è la sublime dimora il puro di cuore non legato ad opinioni dotato di chiara visione liberato da brame sensuali non tornerà a nascere in questo mondo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti